Le persone che vi giudicano male sono 99% persone che hanno fatto meno di voi e che sono quindi invidiose. E allora perché vi preoccupate di qualcuno che ha acquisito di meno? Perché voi non vi riuscite a capacitare del fatto che sia inferiore, che sia limitato, perché non vi siete mai fatti questi ragionamenti. Sono stupidi, lasciate perdere, cancellatevi da Facebook. Non sono importanti le persone che vi giudicano male. Cioè, a voi vi interessa di una persona che vi giudica male? Non è una roba. E non state nei loro ambienti. Quindi, ragazzi, quando cominciate a fare queste robe, non andate al bar del paese a tentare di dire che voi state facendo la riprogrammazione. Cioè, però anche voi è un po' di sveglia. No, perché io andavo prima a bere nel bar del paese, adesso vado al bar del paese a fare colazione, ma mi fanno delle domande. E mi chiano ad andarci, no? Ma che cazzo va al bar del paese? Ma ti rendi conto? Questi concetti sono solo in Italia, ragazzi. Bar del paese, con i vecchietti, che si conoscono tutti. Eh no, ma in paese ci conosciamo tutti. Ma cambia paese. Ma cos'è sta roba? Guardate che solo in Italia è così. Ci conosciamo tutti. Ma non è una roba bella. State in un contesto di andatevene. Chiudete in casa, recludete. Ma in paese si parla di me. Ma chi se ne è affrettato non sarà in più parte di quel paese. Tra poco te ne vai. Ma hai notato, ragazzi, che i multimilionari nel vostro paese non ci vengono? Ti ho notato che Bill Gates non c'ha la casa lì? Anche io sono di un paesino. Non c'è il flusso dei milionari che si muove verso quel paesino. Massimo c'è qualcuno che si muove fuori dal paesino come me. Eh, vorrà anche dire qualcosa. Cioè adesso non è che bisogna rinnegare le proprie origini, parlare male. Non è quella, però è anche la realtà. Un paese, con questa mentalità paesanotta che abbiamo, no? Un paese, il bar, uno che mi ha guardato al bar, nel bar del paese, il mio quartiere. Cioè, guardate che la mentalità italiana è da fuori di testa. Siamo compaesani. Ci sono questi, soprattutto al sud, perché noi siamo compaesani. Ma che cazzo vuol dire compaesano? Ma basta. Il compaesano, non c'è il compaesano in America, in questi altri pochi. Non c'è questo senso tribale, perché il giudizio è molto importante. Allora, più è piccolo il contesto, ragazzi. Io ne potrei parlare, veramente, non vi voglio ammorbare perché... Allora, più è piccolo il contesto, più il parere degli altri conta. Perché è normale, quando noi viviamo nella tribù piccolina, dove ci sono rettaggi, il giudizio degli altri, avere l'approvazione degli altri, è un retaggio culturale? Atavico, a livello di paradigmi. Quindi io non sto dicendo che non c'è, anzi è una cosa molto difficile liberarsi di questa... Perché ce l'abbiamo proprio dentro di noi. Perché abbiamo il tribalismo. Quando noi eravamo gli uomini primitivi, ve la faccio breve, e vivevamo nel villaggio grosso quanto questa stanza, che è di... 5 metri per c... 4... non lo so, di 4 metri, ok? Dove c'erano due capanne, e dovevamo vivere lì. Il giudizio che tu avevi di me, e importava, perché se ci stavamo troppo sul cazzo, oppure non c'era un rapporto di mutuo beneficio, di mutuo amore, è un problema che ci ammazzavamo, e viviamo veramente male. Motivo per cui, per esempio, chi ha una situazione di merda in casa, l'ho detto prima, cioè il giudizio negativo è quello del mio padre. È un casino, te ne puoi andare, ma ci capiamo. È molto importante all'interno di una comunità che le persone ti stimino, eccetera, eccetera. Ma più la comunità è piccola, più questo conta. Tu sei a New York, e c'è qualcuno che non ti stima, ci sarà anche tanta gente che ti stima, ci sono tante tante persone. Quindi più il contesto è piccolo, e più è chiaro che tu debba guardare quant'è la tua reputazione, perché sennò tu non vivi. Perché vedi sempre le stesse persone, cioè con questi qui le cose non vanno bene, la situazione diventa veramente pesante, lo capisco, eh? Lo capisco, tu sei un ufficio, la situazione è pesante, siete in dieci, siete chiusi in una stagia, si crea un clima veramente che si taglia col coltello, lo so anch'io. E bisogna andare, dove è la soluzione? Non c'è! E se ne dovete andare! Non c'è il quartiere, non esiste questo concetto qui. Il mio quartiere, il bar del mio quartiere, allora c'è il mondo, poi ci sono gli emisferi, no? Ok? Poi c'è, come cazzo si chiama, i continenti, poi ci sono gli stati, poi te lo sai, ci sono le città, le regioni, se vogliamo essere ancora più, poi ci sono le città, poi ci sono i paesini, poi ci sono le frazioni, tu sei nella frazione di una frazione, nel bar, nell'unico bar di un quartiere. E sei lì. Vai via da lì. Il mio quartiere, compaesano. Andiamo nello stesso bar. Capite che è tutto molto cheap, molto piccolo? Voi non potete diventare grandi e avere successo con questa mentalità piccola del quartiere, no? Perché, o quale che riesce con i legami di, anche lì, legami di parentela, ragazzi, voi non dovreste sapere cosa pensa vostro cugino. No, perché il cugino, che è il marito dell'altra, allora l'amica mi ha detto, e sì, ma siete all'interno della cazzo di tribù, soprattutto con la famiglia, ragazzi, bisogna schiacciarsi da quel rapporto incestuccio, basta! E' tribalismo, scimmie che sono all'interno della loro famiglia di scimmie. C'è mia mamma che ha un problema, certo, a quel punto, normale. Sei in gabbia, c'è la leonessa con i cuccioli, i cuccioli hanno un problema, se no, no, andate via, trasferitevi, andate a Kuala Lumpur, non lo so, immaginatevi che andate a Kuala Lumpur, non ci sono più dei problemi. Va benissimo, per esempio, non c'è niente di male nel correre, nel fuggire per scapparsi la vita. come disse il Catch 22. Ok? E' un libro, adesso non voglio essere troppo. Quindi, finché la vostra vita assomiglia a un buco del culo, cioè, dovete allargare, come si fa per allargare altre credenze, altri paradigmi, altre conoscenze che voi assumete ogni giorno per allargare la vostra cazzo di cultura? e non può andar bene. No, perché il big, sai che mio cugino, ma che cazzo inizia una frase del genere? A mio cugino siamo così, siete così voi? No, perché c'è il marito della cosa che mi ha detto, allora, ha visto il post su Facebook, no? Perché allora io gli ho messo like per vedere se non mi rimetteva il like, perché se non mi rimette il like, allora io ho pensato Cosa? Ma non è una vita normale questa? Non è una conduzione di una vita piena di soddisfazioni, però lasciateli lì nel loro brodo, via, che si ammazzino, ritrovate dopo vent'anni, come fa? Ma, sì, ma, ma, solita vita, ma solita vita, vent'anni fa? Eh, sì, no, perché un attimo ho visto. Ok? Stupidi, sono scimmie, bestie, è così, tutti quelli che vi giudicano, e che so, qualunque persona, no, questo è un altro principio, che si preoccupa troppo di voi, è una persona che ha un cazzo da fare. È normale. Cioè, se tu sei amico di una persona, ti fa piacere quando ha successo, sei qua, ma non sei così dentro nella sua vita. Se siete così dentro alla vita degli altri, vuol dire che non ci avete la vostra. E se non hanno la loro vita, perché dovreste essere preoccupati per il fatto che loro vi giudicano, che non hanno una vita? Non è gente che giudica, è gente che vive la vostra vita e non la capisce. Siate i protagonisti della vostra vita, non gli spedatori. Le persone di successo, quelle vite, pensano a loro, io penso a me, penso alla mia famiglia, e poi un po' penso al mio amico, penso all'altro, però, mi alzo e penso a me. le persone normali, i stupidi, parli sempre di te. Guardate le affermazioni che fanno i normali. Parli sempre di te. E io, mi sono trovato a fare questa discussione, no? Ma io di chi dovrei parlare? Degli altri? Io parlo di me perché ho abbastanza cose interessanti da dire di me. Il fatto che tu non ce le abbia e debba parlare di altre cose che non capisci, non vuol dire che ne devo parlare anch'io. E sì, perché io ho una ditta abbastanza interessante da poter esprimere quello che io ho fatto, non quello che ho visto su Facebook che ha fatto qualcun altro. Abbandonateli, ragazzi. È l'unico modo. dell'unico modo. Grazie.